Giornata a tinte bianco-verdi, quella vissuta domenica pomeriggio allo Stadio Partenio. Oltre alla presentazione delle divise e della gara amichevole giocata e vinta contro il Sorrento, l'iniziativa Stay With US è stata caratterizzata dalla presentazione della campagna abbonamenti. Lavellino, in controtendenza a tanti altri club ben più blasonati, ha presentato la campagna per la stagione 2021-2022, cercando di riunire intorno a sé i tanti tifosi bianco-verdi dopo un anno e mezzo di lontananza dallo Stadio Partenio. Da disposizioni governative, l'impianto sportivo di Via Zoccolari potrà ospitare poco più di 3.000 tifosi all'interno dei propri spalti e l'obiettivo del club è quello di poter vedere il sold-out in ogni gara. Proprio per questo si è scelto di presentare una campagna abbonamenti in linea con quanto fatto dalle altre società di Lega Pro, cercando di attirare a sé il maggior numero di spettatori mediante la scelta di una campagna con prezzo e ribasso. Nello specifico, l'US Avellino ha introdotto anche quest'anno le Fidelity Card, con l'unica differenza che all'interno non vi è il pacchetto di event sport, ma una serie di sconti e iniziative. La Fidelity Card è obbligatoria per chi vorrà sottoscrivere gli abbonamenti e al tempo stesso potrà essere sottoscritta da chiunque vuol sostenere il club. Per accesso allo stadio la società ha deciso il costo medio di una partita in curve di 7,70€ per un totale di 140€ per 18 gare. Per gli over 70, under 12 pacchetti di sconti con un costo di 5,50€ a partita. Stesso discorso per la Terminia, dove una gara costerà 14,40€ di media per un totale di 260€, ridotto invece costerà 220€. La Montevergine costerà 380€ con un costo medio di 21,11€, e abbonamenti ridotti costeranno soltanto 340€, ovvero 18,80€ per gara. Prezzi che sono in linea con le società di Lega Pro e che risultano essere più bassi rispetto ad altre dirette concorrenti. Ovviamente da questo pacchetto è esclusa la gara contro il campo basso. L'accesso allo stadio sarà consentito solo mediante biglietti e chi ha sottoscritto la Fidelity Card nella passata stagione avrà la possibilità di acquistare il biglietto a prezzo ridotto. La campagna abbonamenti partirà dal 1 settembre e ci si aspetta una grande risposta al pubblico irpino. Sottoscrivere la Fidelity o l'abbonamento è il primo modo per sostenerla a propria squadra di calcio.